La Fiorentina è un avversario con l'acqua alla gola, è andato via il presidente commisso e ha detto che su tre partite vuole nove punti, per cui vincere oggi e vincere le prossime due. Io ricordo sia la partita dell'andata sia la partita dell'anno scorso, la partita dell'anno scorso ha dell'incredibile, perdevamo 3-0 poi in dieci uomini senza che loro avessero tirato in porta. Due calci di rigore e un autogol, fu veramente una partita stranissima, però mi piacque perché la squadra fino all'ultimo ha cercato il gol e lo trovammo con Gabbiadini, non valeva niente, però quello era lo spirito della squadra che non ci stava a perdere in ogni secondo. Gli aspetti chiavi saranno i loro movimenti che sono cambiati dalla gara d'andata, ci sarà Ribéry che non c'era nella gara d'andata, per cui è totalmente diversa la Fiorentina. La Samp è migliorata, è migliorata perché venivamo da due sconfitte con Juventus e Benevento, poi ci sono state tre partite meravigliose e adesso stiamo in una posizione dove dobbiamo far vedere che noi vogliamo andare avanti il più possibile. L'ho sempre detto e lo ripeto, io ringrazio il presidente perché mi ha dato una squadra dove io posso mettere alcuni giovani che si stanno meritando di giocare, posso mettere tra virgolette giocatori con più esperienza e il prodotto non cambia, per cui sono veramente contento di questa rosa di giocatori. Tonelli è squalificato, qualche acciacco, ma è normale che ci sia in questo momento del campionato, siamo alla fine dell'inverno, per cui è logico che ci siano alcune difficoltà, ma è normale. Adesso vedremo di mettere in campo i giocatori che più si capiscono, che più hanno quella determinazione e quella voglia di far bene. Gabbiadini sta riprendendo con noi, ancora non è pronto, poi parlerò con lui se vuole cominciare a risentire il profumo dello spogliatoio. Ferrari sta in rampa di lancio, può essere già disponibile dal primo minuto di domenica, ci devo pensare come al solito il sabato sera. Firenze è stata una tappa molto importante nella mia carriera, andai a Firenze in Serie B, vincemmo il campionato, portai la squadra a vincere la Coppa Italia, la Supercoppa italiana. Quattro anni lì, non si dimenticano, sono stato benissimo con la famiglia Cecchicori, con tutto quel nucleo di persone, direttore sportivi, staff con i tifosi, è stata una meraviglia. Questa volta, due volte l'anno sono un loro avversario, ma avversario sul campo perché poi dopo invece sono stato bene.